Affonda una nave nel mare e c'è un unico superstite che riesce ad attaccarsi ad un pezzetto di legno e riesce a raggiungere un isolotto lì vicino, soltanto che risulta essere un isolotto disabitato. Quindi questo dopo qualche giorno inizia ad entrare in crisi, fino a che vede una mucca. Allora pensa, oddio, mo me la magno, c'ho una fame. Invece poi ripensa, no, ma la utilizzerò per il latte. Quindi dopo qualche giorno riesce comunque a sostentarsi e gli viene voglia di fare sesso. Allora dice, oh, come faccio qua? E niente, pensa alla mucca. Quindi si avvicina a sta mucca piano piano, glielo provo a mettere, solo che sta mucca si è sposta. Lui gli si riavvicina e sta mucca gli si è risposta. Dopo un po' gli si è risposta. Insomma prova appena settimana a far sesso con sta mucca, ma non ci riesce. Fino a che c'è un altro dirottamento aereo proprio lì vicino e precipita quest'aeroplano e vede su Pestite soltanto una bellissima ragazza che raggiunge quest'isolotto e trova questo signore, quindi è tutta contenta. Meno male che ci sei tu. E lui, ma lo dici a me? Anzi, guarda, ti voglio chiedere subito un grandissimo favore. E lei, ma dimmi, dimmi, come posso aiutarti? E lui, senti, mi reggi sta mucca, per favore?